smarrita e sconvolta e invece tu enti che si capisce perfettamente tutto quello che dice sembra che quello che dici ce lo vuoi spiegare e invece no addirittura dice sembra che se faccia fa l'effetto di un discorso che un confessore fa alla sua penitente cioè vuol dire che tutto questo non c'era e poi dopo tutta questa tirata silenzio si tira una sigaretta dal pacchetto secondo l'indicazione di brigitte giac a partire prima cosa a partire prima cosa a partire prima cosa grazie grazie grazie